Sono stati 290 i contagi da covid nel Piacentino la settimana scorsa, in calo del 26% rispetto a quella precedente. È risultato positivo il 3% dei tamponi effettuati, oltre 9.000. Il 90% dei test positivi riguarda la variante inglese. Rispetto alla regione Emilia-Romagna, l'incidenza del virus nel Piacentino si conferma molto bassa. Nelle case di riposo si è registrato un caso di positività tra gli operatori e nessuno tra gli ospiti. In un mese si sono dimezzati i casi tra gli over 70 e anche nella fascia d'età 0-17. È cambiato poco invece per la fascia 18-64, ovvero quella dei lavoratori che hanno continuato l'attività in zona rossa. Relativamente tranquilla la situazione degli ospedali piacentini, dove sono ricoverate 80 persone positive. A novembre erano 300. L'azienda sanitaria ha presentato il report dell'andamento dell'epidemia nel nostro territorio e ha fatto il punto sulla campagna vaccinale condizionata dagli approvvigionamenti. Complessivamente il 17% della popolazione è vaccinata. 22.000 cittadini hanno ricevuto la seconda dose. Dal 12 aprile potranno prenotare anche le persone tra 70 e 74 anni. Quasi concluse le vaccinazioni delle forze armate, raggiunto il 90% degli insegnanti. 1.800 persone attendono ancora il vaccino a domicilio. Sono state segnalate alcune persone nei supermercati senza mascherina che si sono giustificate con il fatto di essere vaccinate. L'azienda sanitaria ricorda a tutti l'importanza di rispettare le regole. Le persone vaccinate devono avere le stesse precauzioni di tutte le altre persone. La vaccinazione sicuramente protegge dalle forme gravi di patologia. Non è escluso, è molto probabile, ma non è escluso che un vaccinato possa in qualche maniera essere colonizzato e emettere virus. E quindi le raccomandazioni in questo momento sia in luoghi affollati che in luoghi chiusi è sempre di utilizzare i mezzi di stanza netto di precauzione e di genere personale. Domani nei centri vaccinali piacentini è previsto il test per valutare l'operatività a pieno regime con oltre 2.500 vaccinazioni in un giorno.